Rolex Oyster Perpetual 28mm, un esempio di eleganza e prestigio nell'orologeria. L'Oyster Perpetual 28mm rappresenta una vera e propria gemma, dove stile e raffinatezza si fondono in una cattivante sinfonia. Il nome stesso, Oyster Perpetual, è un richiamo all'alta qualità e al prestigio che permeano il mondo degli orologi. Questo nome è la sintesi di due concetti fondamentali. Oyster si riferisce alla cassa ermeticamente sigillata, una caratteristica innovativa brevettata da Rolex, che protegge con successo il movimento interno dagli agenti esterni dannosi come l'acqua e la polvere. Questa innovazione ha rivoluzionato l'industria orologera, aprendo la strada a una nuova era di orologi resistenti all'acqua, ideali per coloro che amano esplorare le profondità marini o semplicemente desiderano la tranquillità di sapere che il proprio orologio è protetto in qualsiasi situazione. Dall'altra parte, Perpetual si riferisce al movimento automatico che batte nel cuore di questo orologio. Questo movimento è alimentato dalla massa oscillante, che si muove in risposta ai movimenti naturali del polso di chi lo indossa. In altre parole, l'Oyster Perpetual 28 mm non necessita di un cambio di batteria o di una carica manuale. La sua autonomia energetica è, perpetua, garantita dal semplice fatto di indossare regolarmente l'orologio. Il design dell'Oyster Perpetual 28 mm è altrettanto impressionante quanto la sua tecnologia. Il fascino intramontabile dell'Oyster Perpetual è evidente anche nelle numerose variazioni di design disponibili. L'ampia gamma di modelli permette di scegliere l'Oyster Perpetual perfetto per il proprio stile personale. Questa versatilità rende l'Oyster Perpetual 28 mm una scelta attraente per chi desidera un orologio che si adatti a diverse situazioni e outfit.